allora abbiamo fatto le due serie intervistiamo l'atleta rossi come è andata atleta rossi domanda di riserva quanto è fatto? poco bene qui sono occupati no no ma la peggio serie chi la fai? se ti mani sparate in questo modo alle 4 si parte si va a casa anche prima lei meccico che c'ha da dire? l'inter parigià 0 a 0 col bologna no 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 lo evitiamo lo evitiamo ragazzi devo confidare una cosa ho fatto 39 22 17 io speriamo bene domani ma 20 18 eh sì l'atleta rossi sta dicendo 44 da valerani con un triciclo la prima serie tra l'altro il mio che è umbilico l'atleta rossi la prima serie ha fatto? ho fatto 18 con 18 con 6 zeri di fila umbilico attenzione umbilico atleta cresti nella prima serie ha fatto 4 zeri in 7 piattoli perché aveva il keyway ha detto io non mi posso ammalare perché sono insostituibili al lavoro vabbè passo e chiudo ci vediamo prossimamente ciao ciao ciao